In un recente video ti ho parlato, ti ho mostrato la funzionalità elementi nidificati di Elementor introdotta nell'ultima versione 3.10 beta, quindi mi raccomando è una versione beta di Elementor. Un'altra funzionalità presentata sempre in questa versione beta riguarda la possibilità di utilizzare unità di misura personalizzate per alcuni elementi, per alcuni widget di Elementor. Vediamo di cosa si tratta. Su Elementor siamo sempre stati abituati a scegliere tra diverse unità di misura per quanto riguarda la dimensione, l'altezza o, per quanto riguarda la tipografia, la dimensione dei caratteri. Però, ad esempio, per quanto riguarda la tipografia, la possibilità di scegliere si è sempre limitata a unità di misura fisse come i pixel o variabili come gli M, REM o i VW. Ora, con la nuova versione beta, è stata introdotta la possibilità di utilizzare anche unità di misura personalizzate, ma non solo. È possibile anche utilizzare alcune funzioni CSS come CLAMP e CALC, ossia funzionalità che permettono di effettuare dei calcoli sulla dimensione da utilizzare. Vediamo un esempio più dettagliato. In questa pagina ho inserito alcuni widget, un contenitore, un'intestazione e qua un blocco di testo. Andiamo a vedere l'intestazione e in tipografia, clicco sull'icona della matita e a livello di dimensione vedi che ora le unità di misura non sono più presentate come nella versione classica una a fianco all'altra, ma è presente un menu che permette di scegliere l'unità di misura desiderata. Selezionando l'icona della matita posso inserire anche una regola completamente personalizzata per stabilire la dimensione del carattere da utilizzare. In questo esempio specifico la regola permette di stabilire una dimensione minima del carattere di 22 pixel, una massima di 64 pixel e una preferita di 4VW, ossia del 4% della larghezza dell'area visibile. Una volta impostata la regola e effettuato salvataggio andiamo a vedere come si comporta sulla pagina. Per apprezzare meglio il risultato però andiamo in ispeziona elemento e abilitiamo la modalità responsive che ci permette di definire la larghezza dell'area visibile. Vediamo in questo caso che la dimensione è 64 pixel. Io nella regola avevo impostato 64 pixel come dimensione massima del font. In questo caso ci troviamo di fronte a una finestra larga 1638 pixel. Vediamo cosa succede se la impostiamo a 1200. Vedi che il carattere ora è 48 pixel. Se io continuo a scendere nella dimensione vedi che anche la dimensione del carattere continua a diminuire perché in questo caso sono entrato nell'area preferita. Quindi sono nell'intervallo tra 64 e 22 e quindi viene applicata questa regola che è il 4% della larghezza dell'area visibile. Più scendo, quindi più riduco la larghezza della pagina, vedi che il font si adatta e si rimpicciolisce. Quindi questa regola mi permette di avere una tipografia fluida che si adatta in maniera molto più flessibile alla dimensione dello schermo e del dispositivo. Molto di più che andare a applicare, che so, una dimensione fissa su desktop, una dimensione fissa su tablet, una dimensione fissa su smartphone. Applicando un'unica regola ho il massimo della flessibilità. Finché scendo alla dimensione minima, supponiamo magari un 400 pixel, e vedi che in questo caso è 22 perché avevo impostato una soglia inferiore di 22. Quindi al di sotto dei 22 pixel questo font non va. Anche riducendo la dimensione del viewport, quindi della larghezza visibile, non scende sotto i 22. Quando poi inizio a salire, quindi supponiamo, spostiamoci sui 600, vedi che qua già è 24, e via via man mano salgo si adatta. Quindi flessibilità massima. La stessa cosa che faccio per l'intestazione, la posso applicare qua per l'editor di testo, il blocco di testo. Quindi in questo caso ho applicato una regola diversa. Quindi sempre la regola, la funzione clamp, dimensione minima 1rem, che normalmente corrisponde a 16 pixel, salvo diversamente impostato, dimensione preferita 2w, quindi il 2% della larghezza dell'area visibile, e dimensione massima 1.375rem, che corrisponde indicativamente a 22 pixel. Anche in questa situazione, se io vado a vedere ispezione elemento, questo blocco di testo, vedi che la dimensione minima, in questo caso è 1rem, sia 16 pixel, ma se aumento la larghezza dello schermo, opps, 1000, arriva a 20, se salgo fino a 1050, vedi che è 21 pixel, a 1100 e 22 pixel, ma superati 1100 non sale ulteriormente, perché ho impostato 1.375rem come dimensione massima, quindi posso creare una forbice di minimo e massimo di dimensione. la stessa cosa la posso applicare ad esempio a un contenitore, come in questo caso, a questo contenitore, a questa sezione, ho applicato un'altezza minima con questa funzione che si chiama calc. ti suggerisco di effettuare una ricerca su qualsiasi motore di ricerca per cercare la funzione CSS Calc e la funzione CSS Clamp per capire nel dettaglio come utilizzare queste funzioni, quindi si tratta di imparare un po' di logiche di funzionamento dei CSS. tornando al nostro contenitore, in questo caso ho applicato come altezza minima questa regola Calc 50VW-30 pixel. Cosa significa? Significa che l'altezza minima viene calcolata prendendo il 50% della larghezza dell'area visibile alla quale vado a sottrarre 30 pixel. In questo caso è un calcolo che ho impostato un po' così a caso, giusto per fare un esempio, però questo ci permette di creare delle regole molto fluide e flessibili che si adattano alle varie dimensioni, senza dover impostare dei numeri fissi che potrebbero andare bene in alcuni casi, ma male in altri. Una regola flessibile ci consente di adattare meglio il comportamento degli elementi sulla pagina in base alle diverse dimensioni dello schermo e dei vari dispositivi. Andando a vedere la pagina, selezionando questo elemento, vediamo che l'altezza ora è 542 pixel. Andando a variare la dimensione però in larghezza di questo contenuto, di questa finestra, vedi che anche l'altezza dell'elemento varia, appunto perché ho impostato in maniera flessibile. Quindi impostiamolo a 1000, vedi che l'altezza è 470 perché 1000 diviso 2 fa 500 meno 30 pixel 470 quindi i calcoli tornano. Quindi questa nuova funzione di Elementor consente di inserire delle funzioni che permettono di effettuare dei calcoli per stabilire dimensioni di font, larghezze o altezze di alcuni contenuti come ad esempio il blocco contenitore. Si tratta di una funzionalità molto utile e interessante che per utilizzarla al meglio richiede un minimo di comprensione di logiche relative ai CSS. Quindi ti suggerisco prima di iniziare a utilizzare queste funzioni che ricordo al momento sono disponibili solo nella versione beta di Elementor, ti consiglio di studiare queste funzioni clamp e calc relative al linguaggio CSS. Spero che abbia trovato utile questo video e ti invito a iscriverti alle notifiche per non perdere i prossimi.